attenzione si rischia un aumento record delle bollette addirittura del 100% eravamo al 59 poco fa il 100% la russia ha tagliato completamente le forniture di gas all'italia e incredibilmente il governo draghi purtroppo non è riuscito in europa nemmeno a ottenere un limite al pet al prezzo del gas cioè un fallimento adesso la settimana prossima si devono rivedere ma è mai possibile che tutti i governi europei messi insieme non riescono a fare immediatamente una tassa straordinaria su queste aziende che si stanno arricchendo in modo immorale indecente sull'emergenza e si rischia un aumento del 100 per cento delle bollette cioè devo dire dove sta il governo attuale è vero che un governo uscente ma è un governo in carica e io oggi sentivo quello che ha detto la meloni premier incaricata da come dire probabilmente dopo le elezioni che sono state vinte dal centrodestra per colpa tra l'altro di letta che ha spaccato il centrosinistra per 20 collegi che sarebbero stati sicuramente tutti di area progressista si sono perse le elezioni ma adesso quello che è fondamentale è un'altra cosa visto che la meloni ha detto che lei in contatto sempre con il governo uscente e fa bene essere in contatto ma devo dire essendo in contatto vogliono cercare di bloccare il caro bollette o no e questa è l'emergenza vera cioè il cento per cento d'aumenti è una cosa furiosa pazzesca quindi dobbiamo assolutamente creare una mobilitazione in inghilterra addirittura i cittadini in varie zone e se no veramente draghi faccia una cosa chieda a conte di aiutarlo visto che conte è l'unico che è riuscito a fare una trattativa dura intensa ma vittoriosa nell'unione europea letta ha fatto danni incalcolabili come giustamente sta scrivendo fulvia ma io accetto il suggerimento di bruno che dice ma scusate chiedetelo a conte e ha ragione ha ragione conte è stato quello che ha fatto una battaglia certo mi rendo conto di dire un paradosso ma veramente il rischio è che se draghi mentre si sente con la meloni non riesce nemmeno a dire blocchiamo le bollette almeno per tutte le fasce più deboli per tutte le imprese che rischiano di fallire cioè ma non se lo pongono questo problema cioè continuano a dire sì c'è il problema c'è il problema per fare cosa andasse chiedessero consiglio a chi è stato capace di fare la trattativa europea giusta che è chiaro che la germania o l'olanda continuano a dire no ma allora si blocchino altri dossier che interessano la germania l'olanda e all'olanda e si dica guardate se continuate così qua fate saltare voi gli accordi dell'unione europea perché questa è la situazione io credo che il fallimento in questa settimana di draghi a livello europeo nel non riuscire a mettere uno stop all'aumento del gas perché è un aumento di speculazione di speculazione non è che non c'è gas questi speculano e i soldi si spostano dalle tasche dei cittadini e dei contribuenti si spostano nelle tasche delle grandi aziende dei fossili sia quelli che producono sia quelli che trasportano il gas e poi c'è il tema che sta aumentando venti insieme al gas aumenta l'elettricità perché in italia soprattutto ma in tutti i paesi si stanno avendo degli aumenti record allora noi su questo dobbiamo assolutamente agire e questo è il primo tema e l'altro è l'attenzione ai rischi collegati guardate uno dei rischi collegati sono gli scaffali vuoti perché le aziende agricole e di piccola trasformazione e di trasformazione che hanno delle bollette stratosferiche che rischiano di andare sull'astrico quelle aziende che devono fare alcune non riescono più a fare i raccolti perché non hanno l'energia necessaria per i raccolti e noi avremo gli scaffali vuoti e qual è il rischio che avremo praticamente materiale come dire cibo scadente importato dall'estero oggi tra l'altro ero alla conferenza nazionale della col diretti conferenza il villaggio col diretti dove giustamente è partita la battaglia contro il cibo scadente o meglio contro il cibo sintetico ci vogliono far mangiare le farine di insetti vi rendete conto le farine di insetti mentre mettono sull'astrico chi fa le produzioni tradizionali nei borghi nelle campagne nelle montagne nelle colline nel nostro paese questo è insopportabile io ho fatto il ministro dell'agricoltura io bloccai la vergogna degli ogm salvai i nostri agricoltori dopo il disastro della mucca pazza allora è evidente che noi dobbiamo tutelare la nostra agricoltura e dobbiamo tutelare la come di capacità nostra di consumatori di cittadini di mangiare cose sane anche questo non è che poi è dare ai nostri figli cose sane quindi questa è una priorità ma nel frattempo scombollette alle stelle le realtà più in difficoltà rischiano di non riuscire di non riuscire a sopravvivere questo è il dato e allora la meloni visto che si sente con draghi faccia in modo che draghi si fa da magari qualche istruzione da conte e vede che cosa bisogna fare lo dico ovviamente provocando sapendo che purtroppo draghi non avrà come dire l'atto di umiltà di chiedere consiglio a chi è riuscito a fare la trattativa in europa che è stata una trattativa seria allora questo è il primo tema di emergenza se no questo governo rischia se anche parte è di doversi dimettere dopo poco cosa che a me non è che dispiace molto però per il paese è fondamentale avere che qualcuno abbia delle si sappia prendere delle delle responsabilità quindi si lavori in questa direzione e permettetemi di dire che domani si vota in un altro posto importante per il pianeta che è il brasile domani in brasile si vota per far fuori il presidente attuale bolsonaro che è quello che sta distruggendo l'amazzonia che è quello che ha fatto ammalare milioni di brasiliani perché ha detto che la pandemia non esisteva quindi bisogna assolutamente chiedere chiunque conosca persone ci sono tanti brasiliani anche in italia col diritto di voto si voti per lula si torni al governo di un uomo un sindacalista che sicuramente è stato anche controverso su alcune cose ma che sicuramente è stato dalla parte dei poveri perché ha dato il reddito di cittadinanza la si chiama in modo diverso ma ha dato un piccolo aiuto finalmente ai tanti diseredati del brasile e ha difeso la foresta amazzonica che è il più grande polmono del pianeta noi dobbiamo alla fine alla foresta amazzonica una gran parte dell'ossigeno che abbiamo e anche della capacità di assorbire la co2 voi avete visto i disastri ambientali che abbiamo in italia e nel mondo avete visto il disastro adesso della dell'uragano ancora più forte in florida la florida aveva sempre gli uragani ma adesso c'è degli uragani incredibili che fanno dei danni catastrofici e con rischi di lutti assurdi e in italia nel mediterraneo noi abbiamo ieri la tromba d'aria in agrigento per poco non ha fatto dei morti ribaltando interamente un autobus e nelle marche li abbiamo avuti i morti li dobbiamo onorare facendo veramente le azioni di prevenzione per evitare che si ripetano questi danni ma nel frattempo l'amazzonia a livello planetario è quella che riesce ad assorbire gran parte o meglio una quantitativo record diciamo così di anidride carbonica voi sapete che l'anidride carbonica è quella che provoca il provoca il cambiamento diciamo il surriscaldamento del pianeta e quindi un cambiamento climatico che sta diventando sempre più catastrofico quindi io penso che dobbiamo auspicare che domani si possa avere la vittoria di lula e la sconfitta di un personaggio dell'estrema destra più folle che c'è stata recentemente che è bolsonaro in in brasile ma tornando all'italia e io vedo che qualcuno me lo sta anche scrivendo ma vi rendete conto che in italia per colpa di letta di un pd che adesso si interroga ma che cosa si interroga si interroga dopo aver fatto il disastro ma era palese il disastro ma com'è possibile non aver capito che andando divisi alle elezioni con quelli che si odiano nel centro destra ma si sono uniti comunque per andare per per il potere letta con la paura che conte prendeva più voti di lui certo c'era questo rischio che andando insieme se dovevamo scegliere nel centro sinistra chi preferivamo come premier probabilmente molti avrebbero votato per conte non per letta e per il pd ma alla fine per questa assurda competizione personale devo dire peraltro a questo punto perché non vedo un'altra spiegazione che non sia peggiore che cioè ci sono stati altri interessi e ci sono stati altri complotti internazionali o di altra natura che non volevano conte perché si era rivelato troppo indipendente non lo so ma quello che è certo è che questi hanno vinto per 11 12 seggi ma di che parliamo nel sud insieme centro sinistra e cinque stelle avrebbero preso 20 30 seggi in più e la destra non avrebbe avrebbero avuto più più senatori la 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 vasta aria progressista che non il che non il centrodestra ma evidente conto cioè una roba da pazzi e adesso gli appelli per dire dobbiamo discutere forse togliamo e cambiamo anche il sindaco il simbolo ma che significa ma fate l'unica cosa giusta chiedete a conte di avviare lui una ricostruzione di un'area progressista in questo paese con l'umiltà di dire che lui è stato capace di stare dalla parte dei poveri come dice de masi de masi ha fatto vedere i risultati elettorali le persone più diseredate hanno votato cinque stelle hanno votato per conte questa è la realtà le persone diseredate hanno votato per conte e giustamente de masi dice anche provocatoriamente dice cinque stelle sono un partito che non si definisce di sinistra ma è di sinistra se sinistra significa stata la parte dei più deboli mentre il partito democrazio definisce di sinistra ma come dice de masi non ha niente di sinistra questo è allora vero riconoscimento sarebbe fare appello a conte perché prenda lui l'iniziativa a partire dal risultato dei cinque stelle per costruire un'area progressista ecologista che era la cosa che conte ha detto quando è uscito da palazzo chigi quando dopo il complotto conte è stato cacciato da renzi e da altri da palazzo chigi e ha detto la prima cosa che ha detto vi ricordate sul banchetto fuori palazzo chigi ha detto io penso che serva una grande area progressista io ho detto ambientalista sostenibilità sostanzialmente ecologista quello che vogliamo dire ma era il messaggio che ha lanciato e all'epoca segretario zingaretti zingaretti disse sì è vero è conte il riferimento di quest'area poi solite dinamiche strane delle correnti del pd si dimette zingaretti viene eletta inizia a dire bisogna fare il campo largo fa appello a conte perché bisognava rilanciare in modo serio un campo largo progressista democratico ecologista vabbè sempre le solite parole a cui devono far seguito anche i fatti quindi poi non mi proponi l'inceneritore a roma per esempio no comunque fai questo appello i cinque stelle con grande lacerazione arrivano a fare le primarie in sicilia addirittura tutti insieme candidando una persona bravissima come barbara floridia che però è candidata all'ultimo momento perché sennò avrebbe vinto le primarie in sicilia dei cinque stelle cioè dei cinque stelle di tutto il centro sinistra ebbene mentre si sta votando per la prima volta una primaria cercando con difficoltà di mettere insieme situazioni anche complicate e diverse perché tanti dei cinque stelle avevano forti mal di pancia nel fare l'accordo delle primarie col pd che fa letta dice che colpa di conte la caduta di draghi quando draghi si dimette nonostante che non abbia avuto la sfiducia questa è un'altra cosa su cui prima o poi i politolici dovranno interrogarsi dovranno discutere come mai draghi si dimette perché scappa sostanzialmente perché forse aveva sentore di non aver fatto abbastanza sul caro bolletto e sulla crisi energetica e quindi scappa draghi scappa letta invece di dire ma draghi come si è scappato dice no noi dobbiamo avere l'agenda draghi e poi scomparsa durante la campagna elettorale chi l'ha trovata qualcuno di voi ha trovato l'agenda draghi me la faccia vero la faccia vera a conte ce la faccia vera a qualcuno ci faccio vedere dov'è dov'è questa agenda draghi che cos'è un'agendina che cos'è questa agenda draghi ebbene draghi scappa è la colpa di chi è e di conte perché conte cosa gli aveva chiesto conte aveva chiesto di intervenire sulle bollette per le famiglie e le imprese di mettere la tassa a la speculazione che si sta facendo sull'energia questa cosa grave poi che aveva chiesto di investire sulle rinnovabili invece che sui fossili cosa che in tutti i trattati internazionali che noi continuiamo a sottoscrivere tutti e poi invece si rilancia il carbone con quel personaggio di cingolani che è stato messo tra l'altro alla transizione ecologica e poi che cosa ancora accade conte chiedeva un reggio cittadinanza aiute più poveri il super bonus che ha fatto fare il botto al pal pil italiano al prodotto interno lordo quindi tutte queste cose sono cose tali che un partito che si dice di sinistra come il pedice no allora si rompe perché avete scritto queste cose ma per favore io queste cose ho cercato di dirle e dove è possibile l'altro giorno le dico ad agora le dico qua certo la televisione non è favorevolissima a farci parlare di questo ecco perché io conto sulle vostre condivisioni sulla capacità di rilanciare la verità e costringere il pd io direi letta non il pd tutto quanto letta in particolare a chiedere scusa e a dire a quest'area loro che devono chiedere a conte è conte che ha vinto nell'area progressista è conte che ha vinto l'elezione giusto allora chiedete a conte di avviare lui la possibilità di ricostituire quest'area non è che la si fa avviare agli sconfitti a quelli che hanno sbagliato ma dove si è visto questo allora conte può se lo vuole fare riavviare un discorso un percorso da lì dove il pd e letta l'hanno bloccato e io spero che dentro il pd al di là di quelli che dicono azzeriamo tutto a che che va bene giusto si faccia il passetto avanti si faccia il passetto avanti che è quello di dire facciamo appello a conte anzi prima gli chiediamo scusa perché l'abbiamo trattato c'è questa hanno pensato io ho visto devo dire il fatto che votiamo sono bravissimi hanno fatto un elenco non posso condividere ma insomma l'avrete visto di tutti i titoli dei giornali da credo forse giugno da giugno fino ancora a settembre inoltrato diciamo così dove qualcuno diceva che conta era morto altro diceva che era finito che era un incapace che non avrebbe preso un voto c'è una roba veramente che devo dire cozza contro la realtà di quello che è accaduto dopodiché non dico che nessuno di questi manco ha detto scusate abbiamo sbagliato forse lo dovrebbe fare no che dice allora visto che hanno sbagliato se conte è andato meglio molto meglio di quello che si prevedeva nonostante il boccottaggio nonostante il crollo dell'affluenza alle urne che come dicono tutti ha danneggiato il movimento 5 stelle e il voto a conte nonostante tutto ciò conte è andato bene nel pd dove erano quelli che si sono opposti alla follia di letta io ho sentito vagamente qualcuno ma pochi c'è stato forse il governatore della puglia che ha detto a un certo punto scegliete nei collegi uninominale quelli dei 5 stelle se hanno più chance e come si è visto avevano più chance in tutti i collegi del sud se è il primo partito in tutti i collegi del sud chi aveva più possibilità di togliere i seggi alla destra visto che tutta la campagna elettorale letta l'ha fatto dicendo a noi siamo quelli contro la destra bravo infatti hanno regalato alla destra una vittoria immeritata perché la meloni ha preso il 26 per cento rispetto ai dati iniziati di queste elezioni guardate l'unico vincitore vero è conte l'unico perché conte partiva che lo davano tra l'otto e il 10 per cento ha preso il 15 e mezzo la meloni partiva dal 23 al 28 ha preso il 26 quindi è stata diciamo più o meno un po meno anzi di quello che era le previsioni più rose la lega è crollata forza italia era il 17 alle scorse 18 ha preso l'otto probabilmente ha limitato i danni ma le previsioni la davano tra il 7 e il 9 quindi andata lì calenda ha preso quel 7 per cento e addirittura lui sperava sopra il 10 e alcuni lo davano abbondantemente sopra il 10 quindi l'unico che è andato decisamente al doppio diciamo così delle previsioni che aveva è stato conte allora devo dire nell'area progressista vogliamo riconoscerlo questo io ho sentito una parola da parte di esponenti autorevoli del pd che dicono conte ha avuto un vero risultato non dobbiamo riallacciare il dialogo dobbiamo chiedergli scusa perché abbiamo cercato di ammazzarlo perché questa è la realtà e poi dobbiamo fare in modo che sia lui a prendere un'iniziativa e a descrivere come si può costruire sui programmi e sui contenuti perché l'altra cosa fondamentale devo dire è una cosa che i 5 stelle continuano a dire sembrano come se loro fossero strani ma sono loro quelli normali invece cioè le elezioni e le campagne si fanno sui programmi non è che si fanno sulle chiacchiere a vanvera o no quindi i programmi se lui dice abbiamo nel conto i due deciso che non volevamo gli inceneritori ma l'economia circolare ricostruiamo un'area progressista da questo o continuiamo a dire che la cosa fondamentale sono ancora gli inceneritori che sono all'ultimo posto delle cose scelte dall'unione europea dove che se no qual è la differenza tanto male uno vota il centrodestra si deve fare queste cose e mi dispiace che anche alcuni ecologisti si sono azzittiti mentre conte ha fatto addirittura è diventato come dire san sebastiano pieno di frecce lanciate da tutti perché aveva detto una cosa ecologicamente sana come ha scritto giustamente gianfranco amendola sul fatto quotidiano cioè conte ha detto che bisogna fare l'economia circolare altri del pd in particolare il centro sinistra che si definiva ecologista hanno detto che è bene o male comunque era fondamentale ma di che parliamo allora il l'area progressista si ricostruisce se riconosce gli errori non a chiacchiere non l'autocritica di antica scuola comunista che serve solo a fare l'autocritica per poi rimettere gli stessi a gestire le stesse cose non è così che funziona io credo che bisogna avere l'onestà morale di chiedere scusa secondo di riandare sui contenuti veri e quindi capire su che cosa non è d'accordo sembra il re cittadinanza in parlamento il pd si metterà sulle barricate per evitare che vengano tolti i soldi ai più poveri o invece starà come a fare ponzio pilato tra una parte dell'altra ecco questo farà la differenza visto che questi vogliono togliere prima il reddito e poi dire troviamo qualche forma invece no voi continuate a dare il reddito di cittadinanza alle persone in difficoltà e poi finalmente obbligate quelle regioni di destra che non l'hanno fatto a riorganizzare i centri per l'impiego e offrire posti di lavoro ma con stipendi giusti se tu offri un posto di lavoro a 500 euro sotto pagato è chiaro che quello perché ti deve dire di sì ma cioè è immorale allora io credo che questo è il lavoro che dobbiamo fare lo dico con molta franchezza perché poi sentendo sempre tutta questa discussione che sento da una vita perché si fanno ogni volta le costituenti non vi dimenticate che il pc è finito il pc e fatti democratici di sinistra poi sono finiti democratici sinistra anzi no hanno fatto il pds partito democratico di sinistra poi è finito il pds hanno fatto il ds senza la p del partito poi finiti ds hanno fatto il pd alla fine hanno solo tre parole partito democratico di sinistra che hanno usato nei vari anni per fare sempre le stesse cose ma dico sarà venuta l'ora di dire forse di interrogarsi come mai si perde consenso e non si è più un partito dei dei cedi popolari che rappresenti anche il popolo almeno anche il popolo non dico solo il popolo più povero no ma magari anche quelli o no allora sul reddito cittadinanza secondo me si farà la differenza e si vedrà l'atteggiamento e non solo sul reddito ovviamente sul super bonus sulle scelte sull'economia circolare vera ecco noi questo dobbiamo fare e questo dobbiamo pretendere ecco perché io sono contento di quelli di voi che mi state scrivendo che come dire purtroppo sono tutti uguali tranne conta ragioni sabella e devo dire anche che la colpa delle regioni come dice florinda è esattamente quello che abbiamo detto durante tutto questo periodo noi dobbiamo andare con nettezza a fare operazioni di trasparenza di verità sul programma sulle cose concrete non il programma dei grandi ma guardate noi all'epoca quando si fece la coalizione dell'unione di prodi anche allora gli americani non erano contenti che in quella coalizione ci fosse il pdc e rifondazione comunista e anche i verdi non gli piaceva però prodi è stato uno che non è che si è fatto condizionare la coalizione ha fatto lo stesso e facciamo un programma in cui io riuscì a far inserire insieme ai verdi che toglievamo i combustibili il contributo chip 6 combustibili fossili poi dovetti fare una guerra in parlamento per ottenerlo e la de petris che oggi ha votato anche lei per conte è stata essenziale perché in parlamento poi cercavano di togliere addirittura di nascondere gli emendamenti votati ma di che parliamo però quello fu un accordo di programma fu un accordo su un programma e prodi fu capace di dire no agli americani che volevano che invece di fare una grande coalizione contro berlusconi si tenessero fuori i partiti ecologisti e in particolare quelli che si chiamavano comunisti perché era una paura poi si trattava di rifondazione pdc che erano come dei partiti riformisti poi il nome era ancora comunista ma sostanzialmente chi era erede del pc e di un certo tipo di arroganza era e si è dimostrato ancora il pd non queste formazioni che comunque erano più attenti ai contenuti già allora noi proponevi il reddito di cittadinanza il reddito di cittadinanza stava nel programma del 2006 come una delle proposte che noi avevamo fatto nel programma dell'unione ci sono voluti 5 stelle e conte per realizzare quel programma di sinistra che stava nel programma dell'unione questa è la realtà allora a questo punto mi sono un po accalorato però veramente è intollerabile vedere ancora e discutiamo rifacciamo le costituenti le ricostituenti eccetera qua serve un grande una grande area progressista ecologista innovativa democratica come volete chiamarla oggi anche democratica perché come dire bisogna stare attenti alle modifiche si propone della costituzione a cose di questo genere io credo che dobbiamo essere però molto chiari sulle cose dire sempre le cose più o meno come sono andate perché è la verità pretendere che oggi si possa riconoscere a conte il ruolo di federatore chiamiamolo così di un'area progressista vera che sta su quei contenuti però non che fa discussioni astratte e creare un'opposizione sana buona perché poi una cosa va da di cui va dato atto alla meloni al di là di chi sta simpatia lei l'opposizione l'ha fatta e si è candidata dall'opposizione dal governo adesso io credo che la cosa fondamentale non creare né inciuci né pateracchi di nessun tipo adesso bisogna costruire dall'opposizione con la guida di giuseppe conte una capacità di un'opposizione che costruisca subito su temi concreti il futuro governo del paese io credo che se si è bravi se si è determinati in due anni questo centrotesta frana e allora elezioni anticipate è un'elezione che porti conte a fare quello che poteva fare già adesso se avessimo avuto più tempo e avessimo avuto un pd che invece di boicottare una grande coalizione unitaria e poteva aderire e avere la capacità di riconoscere che conte poteva essere il front menu di una grande coalizione non l'ha voluto fare però devo dire la battaglia l'abbiamo fatto lo stesso bene con risultati dei cittadini io sono e ve lo dico perché voi mi chiedete scendete in campo io sono in campo sono in campo come attivista come militante come persona che sostiene conte e sostiene la possibilità che i 5 stelle entrino e aderiscono al gruppo verde europeo anche perché l'hanno chiesto più volte e dal 2014 io insisto per questo perché la giusta alleanza dei 5 stelle e il gruppo verde europeo perché i 5 stelle sono a pieno titolo un grande partito ecologista quando questo sarà completato io sono ancora più contento e per il resto sto lavorando non è un caso che ho fatto la rete ecodigital l'abbiamo fatta in appoggio ad alcuni temi importanti perché io credo e dobbiamo tutti aiutare il movimento 5 stelle a rilanciarsi come grande aggregatore di un'area maggioritaria nel paese quindi il 15 e 5 sono un grande risultato i 5 stelle hanno dimostrato di prendere una volta il 25 una volta più del 30 magari anche con un voto allora di protesta oggi anche più consapevoli di quest'identità progressista ed ecologista in questo modo i 5 stelle possono essere loro il punto di riferimento per realizzare un'area che prenda la maggioranza nel paese e governi per fare dell'italia un paese moderno e avanzato democratico ecologista con una digitalizzazione vera ricordiamoci quanto ha fatto il 5 stelle anche il governo conte per la digitalizzazione avete avuto persone anche bravissime io penso a luca carabetta che per esempio non è stato rieletto in piemonte ma solo perché questa legge elettorale fa schifo ma è uno che meritava abbondantemente di continuare il lavoro che aveva fatto e dico detto lui adesso perché mi è venuto in mente sul digitale ma tante persone hanno fatto un gran lavoro e spero lo possano continuare a fare oggi ho rivisto stefano patonelli alla conferenza della col diretti per dicendere il per difendere il cibo sano contro il cibo sintetico e le lobby che da sempre stanno cercando di mettere le mani sul cibo del pianeta loro vogliono controllare il cibo così come hanno big pharma per i farmaci così come hanno le lobby dell'energia loro vogliono avere il controllo del cibo è iniziata la battaglia quando io ero ministro dell'agricoltura e bloccai gli ogm e veniva l'ambasciatore americano a sollecitare io dicevo ambasciatore io ringrazio e sono amico perché sono amico del popolo degli stati uniti america ma non mi piacciono le versioni lobbistiche delle multinazionali americane che ogni tanto devono imporre un tentativo di controllo gli ogm erano quello e noi l'abbiamo bloccato e oggi come ha ben detto il segretario generale della col diretti gesmundo ma anche il presidente brandini oggi la battaglia è cibo sano cibo sintetico è possibile mai che dobbiamo mangiare il come dire il latte senza latte il latte sintetico le farine di insetti di vario tipo che insomma in alcune culture ci sono e sono rispettabili ma non vedo perché noi dobbiamo imporre una dieta unica mondiale ai cittadini del pianeta per fare gli interessi di alcune multinazionali ma quando mai noi abbiamo la dieta mediterranea che addirittura patrimonio unesco e che creano in italia uno dei popoli più longevi del pianeta noi siamo quelli che vivono di più insieme ai giapponesi e allora significa più o meno la dieta nostra tradizionale buona allora vogliamo dire che noi vogliamo questo tipo di agricoltura questo è quello che dobbiamo fare e oggi c'era anche appunto patonelli dicevo che è stato rieletto senatore e gli ho fatto i complimenti perché deve continuare una battaglia fatta anche al ministero dell'agricoltura bene e dobbiamo vigilare ma devo dire su questo è uno dei pochi campi la difesa delle nostre identità territoriali in cui anche il centrodestra devo dire su alcune cose riesce a mantenere la posizione pensate che dopo che io ero ministro dell'agricoltura venne alemanno che è obiettivamente di destra però non lo so toccare né la mia riforma sulla multifazionalità che ha favorito i mercati degli agricoltori i farmer market e queste cose né il no agli ogm che è rimasto anche perché la col diretta e le grandi organizzazioni che lei rappresenta sono state molto dure nel mantenere questa come dire capacità di difendere il nostro made in italy quindi noi dobbiamo lavorare su temi concreti come abbiamo detto dalla parte giusta perfetto dalla parte giusta significa fare cose di cui non ti vergogni che le fai a testa alta e continui fino in fondo e secondo me chiudo su questo dalla parte giusta noi dobbiamo stare anche in brasile con lula perché dobbiamo auspicare che uno dei più grandi paesi del mondo e soprattutto il più importante paese al mondo per quanto riguarda l'ambiente perché il paese della foresta amazzonica torni in un alveo democratico e anche direi di normalità ecologica in cui tu non cerchi di di distruggere la più importante foresta del pianeta ci dobbiamo lavorare ci dobbiamo lavorare bene e vi invito tra l'altro a seguire il 4 di di ottobre l'iniziativa che faremo ci saranno appunto tutta una serie di esperti sulla siccità il cambiamento climatico perché dobbiamo essere attenti al nostro paese e difenderlo dai cambiamenti climatici in atto questo è molto importante bene io vi saluto oggi mi sono accolorato un po di più ma ci voleva perché secondo me dobbiamo diffondere elementi di verità e io credo che se martelliamo alla fine vedrete che tutta l'area progressista ecologista italiana capirà che dobbiamo chiedere a giuseppe conte di lavorare ancora con più energia perché da oggi parte l'azione di opposizione che può portare a un buon governo per l'Italia per quello che serve è il conte terre noi vogliamo lavorare da oggi per il conte terre che quello che vorremmo realizzare e lo possiamo realizzare solo se riportiamo il popolo a votare perché le persone devono poter votare e se anche cambiamo la legge elettorale che fa schifo e la cambiamo o in parlamento o con un referendum arrivederci a presto